Donna in difficoltà durante la discesa in montagna, fortunatamente viene salvata. Gli uomini del soccorso alpino della Guardia di Finanza di Roccaraso, unitamente al personale del soccorso alpino fluviale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di Pescara, con l'ausilio di un loro elicottero, hanno soccorso ieri pomeriggio sul Monte Rotella, vetta che tocca i 2.129 metri di altezza, rigadente nel comune di Roccapia, una donna di 48 anni, originaria dell'Aquila, esperta sciatrice, che durante un'escursione di sci alpinismo, trovatasi in difficoltà, non riusciva a portare a termine la discesa. La donna ha richiesto aiuto telefonicamente alla sala operativa 117 del capologo di Regione, che coordinandosi con la sala operativa dei Vigili del Fuoco, ha gestito l'operazione. Infatti il personale del soccorso alpino fluviale del Corpo Nazionale del 115, a bordo di un elicottero decollato da Pescara, assieme ai finanzieri della stazione di Roccaraso, ha raggiunto la zona, individuata la malcapitata, hanno eseguito il recupero calandosi con il berricello, mettendo in sicurezza la donna. L'escursionista sarà poi in volo trasportata presso l'elisuperficie dell'ospedale di Sulmona, dove ad attenderla c'era un'ambulanza del 118 per il successivo ricovero.